Senk'al Kapimi serie 47 gradi episodio, proposta di matrimonio da Serkan a Eda. Nella serie, Senk'al Kapimi, sono arrivate le scene piene di amore e romanticismo che i fan stavano aspettando. Con il 46esimo episodio, c'è stata una grande ondata di cambiamenti nella serie e nel rapporto tra Serkan, Eda e Kiraz, che ha preso in un'atmosfera familiare, rende il pubblico ancora più felice. È noto che la serie con protagonisti Ander Sel e Karen Bursin sarà il finale del 52esimo episodio. È stato anche rivelato che gli ultimi episodi della serie saranno gioiosi, divertenti, pieni di amore e romanticismo. Nella 47esima nuova puntata di Senk'al Kapimi, che andrà in onda mercoledì 4 agosto, Serkan dovrebbe fare una proposta di matrimonio a Eda. È stato rilasciato il primo trailer del nuovo episodio della serie, e il pubblico ha subito capito che ci sarebbero stati momenti pieni di divertimento e romanticismo. Anche i fan della serie, Senk'al Kapimi, sono molto soddisfatti di questi sviluppi. Mancano sei episodi al finale. Da quando l'amore tra Karen Bursin e Ander Sel è emerso ad aprile, i fan della serie hanno iniziato a vedere i personaggi di Serkan ed Eda da una prospettiva diversa. La proposta di matrimonio prevista nel nuovo episodio sarà un'esperienza molto diversa per molti fan delle serie tv.